Il dottor Fabrizio Plescia, psicologo, ci parlerà di metacognizione e apprendimento per corsi di narrazione. Io penso di essere qui perché i miei genitori vogliono che imparo a tranquillizzarmi e per stare tranquilla a fare i compiti. Io penso che stare qui mi fa imparare nuove cose e se imparo nuove cose riesco a finire i miei compiti e a conoscere nuove persone, fare amicizia e se stai qui riesci a risolvere i tuoi problemi parlando con i ragazzi dell'Istituto di Ortofonologia. Sembra abbiamo grandi responsabilità. Forse che Momo aveva una speciale abilità nel mettere la gente di buon umore o era particolarmente dotata per il canto o sapeva suonare qualche strumento, sapeva fare magie. No, niente di tutto questo. Quello che la piccola Momo sapeva fare come nessun altro era ascoltare. Per questo sia i piccoli come Gigi Cicerone e i grandi come Beppo Spazzino volevano stare sempre con lei. Vediamo come il forse ci rimanda immediatamente a concetti come l'astrazione, la deduzione, la formulazione di ipotesi, il problem solving. Mettere la gente di buon umore a stati emotivi, affettivi, attribuzioni di capacità. Sapeva fare magie, leggere la mano o il futuro alla verifica di ipotesi, di competenze, e di conoscenze di tipo specifico, ascoltare competenze sociali, funzione riflessiva, stati mentali. Una pur breve narrazione fornisce quindi contesti per lavorare diversi livelli, intrapersonali, interpersonali, ambientali e simbolici. Le funzioni esecutive entrano in gioco, guidano e sostengono la percezione, l'emozione e la cognizione e l'azione, tramite percorsi di autoriflessione, autoconsapevolezza, autodeterminazione. Momo sapeva ascoltare. Marco, qual è una tua capacità? Marco scrive. La scrittura è intesa come mezzo, non come fine, e questo varrà un po' per tutti i contributi portati. La cosa in cui sono brava è scherma. Scherma è uno sport francese dove ci sono due persone. Il loro equipaggiamento è una maschera, una armatura di gomma piuma e due fieretti o due sciabole. Si fanno tre round. Chi colpisce l'avversario fa un punto, ma se si sta a uno pari si fa il round tre. Se vi piace la scherma ve la consiglio, è uno sport divertente. Marco, rispetto all'attività proposta, deve organizzarsi, pianificare, eseguire e controllare il suo compito. Deve comprenderlo e definirlo. Deve ricorrere a capacità, spazio temporali e di sequenzialità logica. Deve valutare e decidere. Attraverso la narrazione gli esseri umani compiono quindi deduzioni logiche, effettuano connessioni temporali e causali tra gli eventi, allenano una teoria della mente, con la comprensione degli stati mentali e affettivi propri altrui. I processi esecutivi, di memoria, di teoria della mente, si sviluppano e favoriscono la comprensione e la produzione di storie e allo stesso tempo stimolano l'assunzione di diverse prospettive, meccanismo fondamentale di crescita socio-cognitiva ed emotivo-affettiva. Possiamo definire le funzioni esecutive come i processi mentali finalizzati all'elaborazione di schemi cognitivi e comportamentali in risposta a una condizione nuova e impegnativa. Le funzioni esecutive sono quindi alla base del problem solving. Definiamo invece la metacognizione come la consapevolezza rispetto ai propri processi cognitivi e al controllo sugli stessi. Per pianificare, eseguire e controllare un'attività è necessario organizzarsi e attivarsi, focalizzare l'attenzione e la concentrazione, regolare i propri sforzi e le proprie energie, gestire le interferenze emotivo-affettive, ad esempio le frustrazioni, utilizzare la memoria di lavoro e le conoscenze acquisite, monitorare e autoregolare i propri stati di attivazione. Alla base dell'apprendimento abbiamo quindi la strategia di selezione di concetti e idee, di organizzazione come collegare i concetti e riassumere, di elaborazione come lo scaffolding e le mappe concettuali, di ripetizione. Utilizziamo allora la narrazione, le storie, perché così i bambini si troveranno a vivere molteplici avventure, mantenendo un unico legame cognitivo ed emotivo. In questo modo il bambino non soltanto fa delle cose, ma vive esperienze dentro la storia, che lo aiuteranno ad affrontare le paure e le gioie che incontreranno e vivranno nel loro percorso di crescita. Dice che il suo popolo conosce un canto antichissimo, radici, storie, memorie, col quale si può addormentare il vortice vagante, se c'è qualcuno che si arrischia a cantarlo. Risoluzione dei problemi, coraggio. Linguaggio difficile, incertezza, paura, ma motivazione, partecipazione, sperimentazione. La tempesta si placò di corsa. Il cielo apparve azzurro e trasparente. Le onde del mare si chetarono. Largo galleggiava immobile sullo specchio d'acqua scintillante, come se lì non ci fosse mai stato che calma e pace. Così Momo può vivere un'avventura ricca di sentimenti a bordo del largo, mentre Sofia può immaginare un'avventura nel fondo del mare, che le permette di vivere il suo viaggio nel profondo, appunto. O Emiliano, che nel suo percorso di terapia è riuscito talmente a riconoscere, elaborare e contenere i suoi vissuti emotivi, all'inizio del percorso difficilmente gestibili, che può permettersi di giocarci, di trasformarli a suo piacimento, perché adesso riesce a capirli, riesce a dominarli. Gioia diventa un fiore. Rabbia un vulcano. Tristezza una nuvola. Paura un fulmine, con capacità grafo-pittoriche e un controllo esecutivo veramente importanti. E poiché nessuno li notava, nessuno si domandava ad onde fossero venuti e da dove ancora venissero, dato che aumentavano di giorno in giorno. Vestivano questi signori abiti grigi, di un grigio ragnatela. Anche le loro facce erano cenerognole, portavano bombette grigie in testa e fumavano piccoli sicuri color cenere. Ciascuno di loro aveva sempre a mano una cartella di cuoio color grigio piombo. Ma di allora, questi signori lì non sono per niente uomini? Chiese Momo. No, hanno assunto l'aspetto umano. Soltanto l'aspetto, rispose Mastro Ora. Si formano perché gli uomini li danno la possibilità di formarsi. Questo basta a fargli esistere. Hanno molti collaboratori fra gli uomini. Questo è il male. Io il mio tempo non lo lascio prendere a nessuno, disse Momo con decisione. Fabio, otto anni. Non faccio nulla con mamma e papà, perché no, non c'è mai tempo. Con papà mi piacerebbe giocare a carte, Con mamma mi piacerebbe giocare a tombra. Antonio, otto anni. Con mamma gioco al mio videogioco preferito, Prinzo Sperzia. Con mamma faccio una passeggiata, con mamma vado al supermercato. Con mamma gioco con i puzzle pupazzetti, Con papà guardo la tv e mi guardo zig e sciarco. Con papà gioco al viaggio di Arlo. Mi piacerebbe fare sport. Momo non aveva mai visto un fiore di tale stupenda bellezza, che pareva formato soltanto di colori sfolgoranti, né aveva mai immaginato che simili colori potessero esistere. Il pendolo astrale sostò un momento sul fiore e Momo, rapita dall'ammirazione, dimenticò ogni altra cosa. Era il fiore dei fiori, una meraviglia impareggiabile. «Mastro ora!» sussurrò Momo. «Non avevo mai pensato che il tempo degli uomini era... era...» Cercava la parola adatta, incapace di trovarla. «Tanto grande!» finì col dire. «Così Sofia ci parla della sua ora fiore più brutta. La mia ora fiore è quella in cui mio nonno ci ha chiamato e ci ha detto che la nostra cagnolina Luna è morta e io mi sono messa a piangere e noi stavamo facendo le valigie per partire in vacanza. È stata l'ora fiore più brutta. E Massimo ci racconta la sua ora fiore più bella. «La volta più felice della mia vita è quando sono andata a pesca con mio padre e ho preso due sugheri, uno di 40 centimetri e uno di 25 centimetri, una stella di 3 chili. Poi, mentre volevamo farci il bagno, abbiamo visto un pesce Luna. Pensando fosse una menusa gigante ci siamo allontanati un bel po'. Poi, mentre pescavamo, abbiamo sentito la radio che diceva «Lasciate stare ragazzi, ci sono i delfini!» Allora siamo avanzati un po' con la barca e abbiamo visto i delfini. Vediamo una significativa capacità organizzativa, socio-cognitiva, emotivo-affettiva, capacità che Massimo ha sviluppato solo dopo un intenso programma terapeutico. Dorothy è una bambina che vive nel Kansas, con gli zii e il cagnolino Totò. Un giorno arriva un uragano, la sua casa si stacca e inizia a volare. L'uragano deposita la casa sulla perfida strega dell'Est e la uccide. Devi andare a piedi, è un viaggio molto lungo, attraverso un paese a volte bellissimo, a volte oscuro e terribile. Un'altra bambina, un altro compito difficile, lottare come Momo, non contro i signori grigi, ma contro le perfide streghe dell'Est e dell'Ovest, alla ricerca dei valori veri, dell'amicizia, della libertà, della fratellanza, per un mondo migliore, un'altra avventura. Il boscaiolo li ringraziò di tutto cuore d'averlo liberato, sembrava davvero una persona molto educata e capace di gratitudine. Il boscaiolo di stagno provò a riflettere seriamente per un istante, poi domandò, credete che il mago di Oz possa darmi un cuore? Perché il cervello non basta a rendere felice una persona e la felicità è quello che conta di più al mondo. Parlando di cuore e di emozioni di empatia, Marco, rispetto a un grave lutto di un compagno, scrive, «Quando è morto mio nonno? Ho superato la morte di mio nonno pensando, e lo penso sempre e non lo dimentico mai, neanche morto, quando sarò vecchio e ammalato, potrò finalmente rivedere, dopo tutti questi anni, in paradiso, cavolo, quindi, Lodovico, pensa alla cosa che ho scritto per superare la morte di tuo cugino». Vediamo anche qui capacità di comprensione, pianificazione, esecuzione, controllo, consapevolezza delle proprie emozioni, dei meccanismi mentali sottostanti, della gestione delle dinamiche emotive, della capacità di razionalizzazione, di empatia. «Insomma, non me lo puoi dare un cervello?» gli domandò lo spaventapasseri. «Non ne hai bisogno, ogni giorno tu impari qualche cosa». «E il mio coraggio?» domandò il leone preoccupato. «Io sono certo che tu sei un animale coraggiosissimo», Oz gli rispose. «Quel che ti manca è la fiducia in te stesso». «E il mio cuore, allora?» domandò il boscaiolo di Stagno. «Beh, se tu avessi dell'esperienza, sapresti che è una bella fortuna quello di non averne», rispose il boscaiolo. «Per parte mia sono pronto a sopportare tutte le sventure senza lamento, purché tu mi dia un cuore». Alla fine del viaggio i nostri amici scopriranno, cioè, di avere già un cuore, un cervello e il coraggio. Solo devono prendere più consapevolezza e fiducia in se stessi, come Atreyu, che nella storia infinita riesce a passare dalle porte delle sfingi solo perché ha piena fiducia in se stesso. O come il mordiroccia e i suoi amici, che trovano insieme il coraggio di lottare e sconfiggere il terribile nulla. «Posso fargli un salutino, signore?» chiese Hagrid. «Scusatemi», si inghiozzò Hagrid, tirando fuori un immenso fazzoletto tutto chiazzato. «Ma proprio non ce la faccio! Lilia e James morti! E il povero piccolo Harry che se ne va a vivere con i babbani!» «Harry, anche lui un bambino, anche lui senza genitori, in un'avventura con molteplici risvolti emotivi e affettivi, in una lotta contro il male, contro tu sai chi, contro colui che non si può neanche nominare, contro qualcosa a cui, senza saperlo e volerlo, Harry è imprescindibilmente legato». Allora Ludovica pensa alla sua famiglia, organizza la sua rappresentazione in una serena collina, tra gli alberi sotto un sole sorridente, che li guarda, fortuna, penserà che io ho i miei genitori a proteggermi da tu sai chi. O Chiara, felice e finalmente adesso consapevole e pronta a dirselo, e dircelo, di avere una sorella gentile, un papà spiritoso, una mamma affettuosa, magari non sempre, ma questa è un'altra storia, e magari ce la racconterà un'altra volta. Oggi vuole avere una bella famiglia felice. O Elena, che sa poco di funzioni esecutive e di metacognizione, ma sa ora con certezza, alla fine del suo viaggio narrativo, fatto di sentieri tortuosi accanto a Harry, che per lei la famiglia è importante, così come l'amicizia. Ma anche lei stessa è per sé importante, e la moda, gli animali, la fanno sentire in qualche modo unica e felice. Lei, fortunatamente, non ha per cugino Dudley. Forse per il fatto che viveva in un ripostiglio buio, Harry era sempre stato piccolo e mingerlino per la sua età. Portava un paio di occhiali rotondi, tenuti insieme con un sacco di nastro adesivo, per tutte le volte che Dudley lo aveva preso a pugni sul naso. Ma Niccolò, nel capriccioso e viziato cugino di Harry, ha riconosciuto un discorso di estrema attualità, e sa che insieme ne possiamo parlare, perché se qualcuno ti ascolta si sta già meglio, e parlando insieme si capisce e si impara. Scrive, un bullo è una persona che maltratta e picchia bambini e bambine. I bulli si credono forzuti, migliori e prepotenti, rovinano persone e amicizie, rubano merende e soldi. Poi prosegue, Bullo uguale a scemo e scemo più cretino. I cattivi, appunto, e i buoni, in una lotta continua. Era stranissimo al tatto, come fosse tessuto con l'acqua. E' il mantello che rende invisibili, disse Ron, e sul suo volto gli si era dipinto un timore reverenziale. Ne sono sicuro, provalo. Emanuele, dieci anni. Se avessi il mantello dell'invisibilità, se avessi il mantello dell'invisibilità, potrei vedere cosa succede durante i colloqui di scuole e di terapia. Potrei vedere youtuber tipo 5J, Paragamer, Zod e Mike Shosha e capire di nascosto i risultati dei compiti, ma non lo farò. Forse nel futuro faranno il mantello dell'invisibilità. Forse. Era uno specchio meraviglioso, alto fino al soffitto, con una cornice d'oro, riccamente decorata, che si reggeva su due zampe di leone. Quanto tempo rimase lì davanti, non lo sapeva. Ci vediamo dentro quel che desideriamo, le cose che vogliamo. Sì e no, disse Silente tranquillo, ci mostra né più né meno quello che desideriamo, più profondamente e più irresistibilmente in cuor nostro. Sempre Emanuele. Quello che voglio vedere davanti allo specchio stregato di Harry Potter è guardare io, Mele, Mirko e Simone, che siamo dei youtuber, che avevamo avuto 3 milioni di iscritti in soli 25 episodi di Happy Wheels, 5 episodi di GTA V, 13 episodi di Farcari Primal ed un episodio di Favijay Games 2. Ma è meglio se non guardo più quello specchio, è meglio la vita reale più che i sogni. In questi scritti di Emanuele troviamo rappresentati affetti, emozioni, desideri, sogni, ma anche realismo, concretezza e tanta umanità. Crediamo che questo sia importante per Emanuele. Crediamo sia, e sia stato importante, metterlo nella condizione di poterlo esprimere. Simone. Simone, quando inizia il suo percorso terapeutico, presenta una diagnosi di disturbi misti dello sviluppo con evidenti difficoltà di tipo emotivo-affettive, difficoltà nell'interazione sociale e un funzionamento cognitivo borderline, con un quotiente intellettivo pari a 72. Il profilo di valutazione evidenzia la presenza di un elevato disagio e malessere che condiziona fortemente il rendimento e la capacità di Simone di gestirsi nelle relazioni interpersonali e rispetto alle richieste dell'ambiente. Dopo un anno di terapia. Buoni progressi sul piano emotivo e comportamentale e rispetto alla sfera degli apprendimenti in un bambino con profilo cognitivo borderline. Permangono delle difficoltà nella gestione di impulsi ed emozioni che condizionano il rendimento e la relazione con l'altro e l'ambiente. Dopo due anni di terapia. Iniziano a comparire capacità di problem solving. Ad esempio in una storia dove un muro di ghiaccio impediva a tre castori di arrivare alla loro riserva di nocciole e i castori insieme, uniti, cantando le loro canzoni preferite, riescono a scavare attraverso il muro e superare l'ostacolo. Meglio che buttarsi afflitti a terra piangenti e finire congelati o sbattere arrabbiati la testa più e più volte contro il muro finendo per farsi davvero male. Inizia un principio di razionalità, di funzioni esecutive applicate all'esperienza, di attribuzione di stati mentali affettivi, sebbene emergano ancora tratti di forte stabilità affettiva e una funzionalità cognitiva non ancora pienamente adattiva. Ma la strada per arrivare dal mago di Oz verso la ricerca di se stessi è ancora lunga. Tanti amici si possono incontrare e tante avventure vivere, ma anche grandi sofferenze da affrontare, temi da elaborare, angosce da sopportare. Ma Einstein diceva che la vita è come andare in bicicletta, se vuoi stare in equilibrio devi muoverti. E il nostro Simone, come la nostra Dorothy, procede spedito, nonostante tutto, nel suo percorso di crescita. Tristezza, quando io faccio arrabbiare mia mamma, mi dice un sacco di cattivie verie su di me che mi fanno sentire triste. Mi dice, stronzo handicappato, io ti renderò isolato come un cane, sei brutto, te manderò per sempre all'istituto, non ti farò mai più un regalo. handicappato, ma vaffanculo, a te e alle tue maestre. Questi insulti su di me mi fanno essere triste ed io ci soffro molto a sentire questi insulti su di me. Dopo tre anni di terapia, il cui il quoziente intellettivo passa da 72 a 98, da borderline cognitivo vicino al ritardo mentale, a un livello perfettamente nella norma dei parietà. Il progressivo abbassamento dei livelli di ansia, l'angoscia ora espressa ha lasciato e aperto nuovi spazi cognitivi e affettivi, ha consentito a Simone la possibilità di esprimere il suo potenziale in ambito funzionale. In particolare, risultano adeguati i livelli raggiunti nell'ambito degli apprendimenti. I livelli cognitivi hanno registrato un importante miglioramento rispetto a quanto osservato nei precedenti controlli. Gli enormi progressi osservati sul piano funzionale non giustificano il proseguire di una terapia a carattere di riabilitazione. Queste che sentiremo adesso sono le parole di un compagno di lavoro di Simone come saluto alla fine del percorso terapeutico di Simone appunto. Giuseppe, 10 anni, un bambino. Ciao Simone, io e te fino ad oggi abbiamo passato momenti straordinari. D'altronde sono il tuo miglior amico. Io e te abbiamo passato momenti straordinari. ci siamo scambiati regali. Sono stato ospite a casa tua, abbiamo scherzato su Paola, abbiamo in qualche modo esplorato il mondo. Mi hai aiutato a proteggere e riconoscere gli animali e ci saranno altre avventure. Tu per me sei come una stella cometa e ti seguirò per sempre. Anche da grandi sarà così. Con affetto il tuo caro Niccolò. Grazie. Grazie. Applausi Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.